Sono molto fragili Cioè non ci sto Qui c'è un altro giallo Rossi ma che ho fatto? Non me ne ho capito Ma dove? Non ho premuto il contesto Non ho premuto il contesto Ah no a te Non ho capito Non ho capito Non ho capito Non ho capito